No, no, per chiedermi tutto quello che vuoi, guarda, io anzi, adesso sono super carico perché ho messo in programma un bel po' di eventi, di cose super felici, interessanti, potenti e mi piacerebbe parlare con te anche di queste cose qua, insomma. Vai. A parte la situazione è devastante globale, però dai abbiamo capito che qua c'è un risveglio della consapevolezza in atto, no? A volte il risveglio della consapevolezza, la consapevolezza si risveglia in modo semplice, felice, piacevole, a volte serve qualche legnata nei denti, no? Sì, sì. Sì, no, ti odiano. Quindi noi adesso che sono tutti lì terrificati da tutte le cose possibili terrificanti, io sto sempre attento a dire come stai, no? E quindi bisogna sempre tenere il profilo basso, cioè purtroppo è così, però anche per me questi sono stati due anni super creativi, no? Perché comunque è così. A volte uno dal meglio di sé quando sta bene, a volte uno per tirar fuori le palle deve essere messo sotto pressione, no? E quindi qua sono stati messi tutti sotto pressione, qualcuno ha tirato fuori dei talenti, delle robe potenti, ha fatto cose grandiose, e i vittimisti, i tristi, i lamentosi, i pessimisti invece sono quelli che stanno... Sì, stanno malissimo, certo. Dimmi tu quando? No, tu non hai delle domande, no? Ah no, iniziamo? Eh sì, io sto già registrando, però... Ah! Oh, caspita, non pensavo che fossimo già in registrazione. Allora... Sì, sì, io ho fatto partire la registrazione così almeno ce l'abbiamo, tanto siamo solo io e te, qua non ho da condividere slide, non ho da fare altro. No, sono... Anna Tecnologica, te lo ribadisco. Allora, buongiorno Fabio Marchesi. Buongiorno Samantha. Grazie. Grazie. Io ti seguo dalla notte dei tempi e come ti dicevo, in te ho trovato un'illuminazione, finalmente qualcuno che giustificava il mio modo di essere felice e nel dire che tutto era meraviglioso. Senti Fabio, una domanda facile facile. Secondo te, perché c'è tutto questo? Non la situazione. Non la situazione che sta succedendo fuori, che sta succedendo nel mondo? No, no. Andiamo per archetipi. Perché esiste l'universo, se c'è un perché? Che idea ti sei fatto? Dall'universo a Fabio Marchesi. Quindi andiamo subito sui massimi sistemi. Bravo. Allora, io parto da un'idea che è quella che mi ha guidato, ispirato quando ho scritto la fisica dell'anima, che poi ho trovato comunque conferme in tutti gli illuminati che ho, illuminati quelli nel senso vero, che sono personaggi che hanno dato reali contributi all'evoluzione dell'umanità, tutti alla fine, quando si arriva sulla questione dell'anima, concordano su questa idea di una realtà non spazio-temporale, dove ogni cosa che esiste esiste come anima, quindi come pura consapevolezza e pura coscienza, in uno stato di beatitudine, proprio perché l'anima è rivelata ed è in interazione costante con tutte le anime esistenti. Quindi da quest'idea del paradiso, dove tutte le anime sono in amore, sono in beatitudine, sono felice, nasce l'idea di un universo relativo spazio-temporale, quindi come luogo dove l'anima può incarnarsi in un corpo fisico e vivere esperienze attraverso il corpo. Quindi l'anima che non ha spazio e non ha tempo, quindi non potrebbe potenzialmente cambiare, non potrebbe evolvere, proprio perché non c'è il tempo, quindi non c'è un prima e un dopo che ti può permettere di dire mi sono evoluto. Quindi all'anima serve lo spazio e il tempo proprio come luogo dove poter creare evoluzione, creare evoluzione nel senso di miglioramenti, di progressi. Quindi io come anima posso essere l'anima più felice dell'universo, in amore col tutto, però mi è difficile come anima contribuire all'evoluzione della realtà spazio-temporale, perché la realtà spazio-temporale, l'universo così come lo intendiamo noi, è proprio il luogo che serve per l'evoluzione dell'anima. Quindi questo è quello in cui io credo. Noi nasciamo proprio con questa missione di evolvere e generare evoluzione. Il problema è che poi quando nasciamo nello spazio e nel tempo, nello spazio e nel tempo ci confrontiamo con lo spazio permette la separazione, quindi la separazione porta la paura della solitudine, il tempo permette la temporaneità, quindi la paura della morte, e quindi con quelle due paure lì diciamo che uno normalmente tende a paralizzarsi, quindi a dimenticare lo scopo della sua vita. Noi abbiamo adesso un universo che è in continua e reversibile evoluzione, costante, questo indipendentemente da noi, però abbiamo creato un sistema sociale, un sistema educativo, un sistema relazionale, tutto quello che ci circonda è contro la nostra natura, perché se vogliamo prenderla larga, partiamo da un metodo scientifico moderno che ci dice che esiste solo ciò che è osservabile, ripetibile e dimostrabile. Quindi un metodo scientifico che esclude l'anima ci porta a vivere in modo razionale e quindi diventiamo competitivi e quello che sta succedendo nel mondo da due anni a questa parte è proprio la, secondo me, è proprio la fine di un'epoca, cioè un'epoca fondata sull'apparenza e basta e quindi sulla menzogna e quindi sulla competizione e quindi sull'opportunismo, è un'epoca che sta finendo, è finita, è finita e quindi adesso si sta aprendo una nuova era, io sono assolutamente convinto di questo e sarà infinitamente più felice di quella che ha portato a questa catastrofe generale che poi alla fine, quando verrà analizzata col senno del poi, verrà considerata una delle più grandi benedizioni che l'umanità potesse mai vivere, proprio perché ha messo in evidenza proprio tutti i limiti di un modello sociale, culturale ed educativo che è utile solo a produrre persone infelici. Non ti sembra un po', Fabio, come una mamma che abbia dato una tirata d'orecchie a un figlio che le stava un po' sbagliando tutte e quella tirata d'orecchie lì serve a far capire, far svegliare in noi che quella strada era sbagliata, perché tu dici spesso nelle tue conferenze, affermi nei tuoi libri, che noi siamo nati per essere felici e questo concetto che per noi sembra così naturale per me, per te e moltissime altre persone, per molte altre persone è una bestemmia, cioè tu non puoi dire, oggi non esiste più la domanda sei felice? Io ho insegnato tanti anni, si chiede al ragazzino hai studiato e fatto questo? Il professore, la mamma caso, la mamma caso, perdon, cosa hai preso? Cosa vuoi da mangiare? Vai a letto presto, fai il bravo? Ma non si chiede più sei felice? È terribile questa cosa. Ma questo è un effetto del razionalismo, del metodo scientifico moderno, l'effetto del considerare solo gli aspetti quantificabili dell'esperienza umana. Infatti il vero problema dell'umanità adesso è l'infelicità. Abbiamo avuto un progresso tecnologico sconvolgente, ma dal punto di vista umano siamo dei trogloditi, siamo veramente peggio che primitivi, peggio che preistorici, siamo veramente fermi a un modo di relazionarci che è totalmente fuori rispetto a quello che è la realtà che la tecnologia ci permetterebbe di avere. Quindi per me riguardo la felicità il più grande maestro è stato Leibniz. Leibniz è stato uno dei più grandi scienziati, matematici, giuristici, un genio assoluto. Se vai a vedere la sua biografia è veramente impressionante. Per me è stato illuminante quando ho letto Monadologia, la sua Monadologia, perché praticamente è la fisica dell'anima, perché lui parte dall'idea che la realtà è soprattutto spirituale. Però a un certo punto dice la società perfetta è quella che ha come intento supremo, quindi al di sopra di tutto, la felicità dell'individuo e della collettività. Quindi noi con un approccio razionale, un'educazione razionale, un metodo scientifico razionale, ci siamo dimenticati di quello che è invece lo scopo fondamentale alla nostra vita, che è essere felici, ma non solo essere felici, ma anche generare nuova felicità e condividere nuova felicità, perché questo è il modo con cui noi realizziamo l'intento della nostra anima, che è evolvere. L'evoluzione non c'è quando migliora un peer di un paese o quando migliora la produttività di un'azienda. L'evoluzione c'è quando c'è un aumento di felicità. La felicità è il segnale e lì anche la Montessori è stato un genio assoluto in questo. Lei voleva far diventare il mondo più felice e si è accorta che doveva iniziare dai bambini perché tutti questi adulti infelici erano tutti infelici perché erano stati educati in modo infelice. E tant'è vero che lei, io l'ho trovata proprio come sua citazione all'ingresso di una scuola montessoriana a Dubai, bellissima, ma la sua citazione è l'indice della validità del metodo educativo è la felicità del bambino. Più il bambino è felice, più il metodo educativo è valido. Capisci che è esattamente il contrario di quello a cui siamo stati educati noi. Noi siamo stati educati all'obbedienza. Tutto il nostro sistema educativo è fondato su creare o soldati o operai obbedienti all'autorità. Appunto, la felicità non è neanche presa in considerazione. Quindi sono tutti come degli zombie lì che ambiscono alla felicità ma nessuno sa neanche come, non sa neanche che cos'è. Cioè che cos'è, no? Quindi tu chiedi a una persona se sei felice, cioè ti guardi, che cazzo mi stai chiedendo, no? È chiaro che se tu chiedi a uno se sei felice, a uno di quelli che a Natale ti scrive ti auguro sereno Natale, te a uno che ti scrive quella roba lì non puoi neanche nominarla la parola felicità, capisci? Perché per il 99% della gente che c'è in giro la felicità è un'illusione, è una cosa che non esiste, al massimo la serenità. E la serenità è una roba tristissima perché cosa te ne fai dalla serenità? Chiaro che per uno depresso la serenità è già un grande obiettivo. Però per quella che è la nostra missione come esseri incarnati, come anime che vengono su questo mondo per vivere e creare evoluzione, la felicità è quello che ci nutre, è quello che dà un senso a tutto quello che facciamo. Non può mai essere lasciata in secondo piano, quindi deve diventare l'intento supremo. Se fosse l'intento supremo di ognuno di noi sicuramente il mondo non sarebbe quello che è e non è una questione di guerre, pseudo-guerre o crisi sanitarie. È proprio una questione che se noi entrassimo in questa cosa che è la natura, no? Quindi la natura esiste, la realtà esiste perché sono tutti a collaborare, tutti gli elementi di realtà collaborano e creano la realtà. Non c'è competizione tra protoni e elettroni, non c'è competizione tra molecole d'acqua. Quindi la competizione è un approccio estremamente primitivo di relazionarsi, no? Che parte proprio da una consapevolezza limitata di sé, degli altri, della realtà. e noi siamo ancora qua a essere in competizione a chi le spara più grosse. Allora Fabio, bellissimo. Prima di tutto sei l'ingegnere più simpatico che io abbia mai incontrato. È un grande complimento. Hai citato la Montessori, che era un genio, ma indubbiamente una donna molto erudita. Lei conosceva, ad esempio, le scritture vediche, che sono le scritture, gli antichi vedi, no? Quelli che sono nella Valle dell'Indo, la primogenia, in realtà, della nostra civiltà che nasce lì. Tu che ami tanto la fisica quantistica, saprai meglio di me che tutti i fisici quantisti erano vedantisti. Cioè, se le loro teorie erano in coerenza con questi scritti antichi, funzionavano, le coltivavano. Altrimenti andavano a cambiare le loro teorie. Nei veda, c'è quello che dici tu, l'ambizione e la felicità attraverso la coltivazione del proprio dharma, del proprio dono individuale, in collaborazione con tutti. Per intenderci, c'è un film famoso che abbiamo visto tutti, che ricorda un po' questi principi primi che tu hai parlato e di cui io te ne sto a specchio, ricordando alcuni aspetti, che è Avatar, di James Cameron. Quando gli omminini blu vivevano in questa foresta, erano in armonia con la foresta, con la natura e tra di loro. Non c'era competizione, ma c'era collaborazione. Un tuo commento. Allora, io penso che, cioè, tutto giusto quello che dici, anche se io penso che quando una persona alza l'asticella delle sue ambizioni e smette di preoccuparsi solo dell'orticello, delle sue esperienze dirette, ma inizia ad avere come ambizione quello di poter dare un contributo all'evoluzione della consapevolezza dell'umanità e del pianeta, inevitabilmente entra in contatto con questa intelligenza superiore che poi lo guida anche a livello intuitivo in quello che fa. Quindi non credo che i fisici quantistici sinceramente controllassero se quello che scoprivano corrispondeva ai veda per correggere o no. Credo che però invece avessero accesso diretto all'intelligenza che viene descritta dai veda. Cioè, io ad esempio, quando ho scritto La fisica dell'anima, per me è stata proprio un'esperienza intuitiva straordinaria che mi ha permesso di capire che c'è questa possibilità di accedere direttamente, autonomamente a una conoscenza superiore, che è quella a cui attingono tutti alla fine. Io ad esempio, quando ho incontrato, è stato sorprendente per me, che c'è la prima richiesta di traduzione del mio libro La fisica dell'anima, mi è stato chiesto da un docente di architettura e di storia delle religioni a Teheran di tradurre il mio libro in lingua farsi, cioè in tutte le lingue in cui poteva essere tradotto in lingua farsi. Mi suppone anche che esistesse una lingua farsi. e lui mi ha detto che secondo lui io avevo spiegato perfettamente con la fisica quantistica tutti i principi fondamentali di Zoroastro e per lui io ero un genio perché secondo lui ho passato degli anni a studiarmi Zoroastro, a studiarmi la fisica quantistica, a cercare le connessioni per poi scrivere la fisica dell'anima. Quando l'ho guardato e gli ho chiesto chi è Zoroastro, cioè lui si è rimasto sconvolto, capito? Per cui secondo lui io ho descritto Zoroastro dal punto di vista quantistico, però io razionalmente Zoroastro non sapevo neanche chi fosse. Poi sono andato a cercare e ho visto e ho scoperto che in effetti c'è questa idea del male e del bene e dell'uomo che ha questa possibilità di scegliere il male o il bene in base a se accetta di vivere nella paura e quindi diventa schiavo del male o se coltiva, alimenta l'entusiasmo e allora diventa, entra al servizio del bene. Quindi entusiasmo o paura come elementi chiave per potersi collegare a un tipo di forza piuttosto che un'altra. Quindi io quando mi sono appassionato di fisica quantistica e di tutti i papà della fisica quantistica per me sono stati tutti dei maestri illuminati e tutti, giusto come dicevi te, sono tutti comunque personaggi che hanno avuto una grande vita spirituale felice. Quindi io lascerei proprio stare le religioni come concetto perché le religioni nascono proprio da un intento di sottomissione, di obbedienza e di sottomissione. Poi c'è invece l'idea di una spiritualità felice che è quella che condivido io, che cerco sempre di divulgare con tutti i miei libri, con tutto quello che faccio, con tutti i miei corsi. Quindi per me noi abbiamo un rapporto col visibile, il conoscibile, il percepibile sensorialmente e poi abbiamo un rapporto con l'invisibile, il mistero e l'incertezza e quella è la nostra spiritualità. Quindi c'è chi ha, se la spiritualità l'ha affidata a qualche religione e purtroppo si incastra dentro in una serie di contraddizioni che diventano poi paradossali. Però se uno entra in una visione della realtà che comprende l'invisibile, come sono stati costretti a fare tutti gli fisici quantistici. Perché quando hanno cercato di capire come funziona la realtà, di che cosa è fatta, si sono trovati di fronte a queste immensità, a questa intelligenza totale, assoluta, che è nell'invisibile. Cioè si sono dovuti confrontare con questa cosa che il metodo scientifico moderno diceva che non esisteva e hanno scoperto invece che nell'invisibile c'è molto, ma molto, ma molto di più che non nel visibile. E lì è stato proprio il maestro, in senso assoluto, è stato l'allievo spirituale di Einstein, David Bohm, che è quello che ha preso tutta l'eredità di tutte le scoperte che hanno fatto Heisenberg, Schrödinger e tutti i papà della fisica quantistica, ed è riuscito ad entrare in questa visione del potenziale quantistico, che è quell'intelligenza assoluta al quale ogni individuo può potenzialmente accedere direttamente senza intermediari. Ovviamente noi sono duemila anni che siamo stati tutti educati a obbedire e all'obbedienza a una qualche figura autoritaria e quindi siamo stati tutti castrati da quel punto di vista lì, cioè dall'idea di poter accedere autonomamente a delle intelligenze. Quindi siamo tutti qui che pensiamo che per qualunque cosa dobbiamo obbedire a qualche esperto perché noi siamo stupidi. In realtà ci sono un'infinità di fenomeni come quello delle wisdom of the crowd, della saggezza della folla, che mettono proprio in evidenza il fatto che c'è un'intelligenza superiore al quale ognuno di noi può attingere. Quindi i VEDA probabilmente sono stati iscritti da chi per primo ha attinto a questa intelligenza qua, ma tutti quelli che in qualche modo contribuiscono al progresso dell'umanità ci arrivano e quando ci arrivano scoprono questa fonte di conoscenza bellissima, straordinaria e illuminante che è quella intuitiva, che è quella diretta, è quella che non richiede intermediario. Quindi ti hai immaginati un mondo di persone intuitive, sarebbe comunque un mondo completamente diverso da quello in cui stiamo vivendo adesso. Ma quello che sta succedendo adesso nel mondo, secondo me, serve proprio per forzare l'individuo a riattivare questa sua capacità che è nostra, innata e che è fondamentale per la nostra felicità. C'è da dire che quando uno diventa intuitivo diventa anche empatico e quindi il modo per impedire alle persone di diventare intuitive è proprio quello di farle vivere costantemente in uno stato di paura o comunque di infelicità o comunque mostrargli sempre amplificata al massimo qualunque forma di sofferenza. Questo serve per far sì che l'individuo medio si impedisca di essere empatico per non soffrire ogni volta che deve confrontarsi con la sofferenza di altri. E non lo sa che rinunciando all'empatia rinuncia anche alla prima fonte di forma di più grande intelligenza che potrebbe avere, che è proprio l'intuizione. Bellissimo. Allora, tu hai parlato di anima, il fenomeno, no il fenomeno, la scoperta chiamala come vuoi, dell'entanglement secondo me è la prova scientifica che esiste l'anima perché è lì. Infatti non vorrei dire una scemenza, mi sembra che Einstein era un po' dubbioso su questo e disse ma com'è possibile? Allora è come se Dio giocasse a dadi con l'universo. Per lui era un po' strano da accettare questa cosa. L'entanglement è che tutti siamo connessi e che non esiste una separazione. Lo so che tu non ami molto le religioni ma ad esempio in quelli che furono gli esseni questa era la base del loro predicare. Concedimi questa espressione. Loro dicevano che tutti erano connessi e che tu in questo momento non eri altro che uno specchio di una parte mia interna che non avevo ancora capito e che stavo conoscendo in questo momento. Tu cosa ne pensi? Allora io quando ho scritto la fisica dell'anima l'ho scritto proprio partendo da questo presupposto che quando uno arriva all'idea di essere anima o di avere un'anima subito parte la mente razionale che dice sì ma dimostramelo no cioè come dimostramela cioè io devo vedere per credere no razionale ragiona così no quindi io quando ho cominciato a pensare faccio l'inventore e quindi prima ancora che essere scrittore sono inventore quindi ho detto adesso voglio inventarmi l'esperimento per dimostrare che esiste l'anima se non che questo esperimento esiste già e quindi il fenomeno dell'entanglement quello che dici te è la dimostrazione scientifica che ogni cosa che esiste ha un'anima che è onnipresente tant'è vero che io a quel punto ho detto che bello non serve fare esperimenti ci abbiamo già quel fenomeno qua e infatti la fisica dell'anima è proprio un libro che parte dall'entanglement come dimostrazione scientifica dell'esistenza dell'anima infatti serve ai razionali per entrare in questa visione più grande Einstein quando diceva ha detto non posso credere che Dio non gioca a dadi con l'universo questo invece ha a che fare con un'altra cosa ma è molto profonda un altro limite estremamente grande dell'essere umano dell'intelligenza diciamo umana media che è quella di credere in una realtà deterministica cioè quindi due delle cose che la fisica quantistica ha disintegrato sono proprio il realismo e il determinismo cioè il realismo che cos'è? il realismo è l'idea che esista un'unica realtà che è la stessa uguale per tutti e questo è stato Heisenberg col principio di indeterminazione ha dimostrato che esistono infinite realtà e ogni realtà ha il suo spazio, il suo tempo poi Einstein con la relatività altrettutto ha dimostrato anche che non esiste un tempo assoluto ma ognuno ha un proprio tempo relativo comunque il concetto era proprio quello che non esiste una sola realtà che è la stessa per tutti ma ognuno vive la sua ma oltretutto ognuno è creatore della sua realtà e questa è una cosa sconvolgente per i razionali che pensano che la realtà esista indipendentemente da chi la vive però c'è quest'idea che va avanti da secoli che è il determinismo che se io conosco tutte le forze che agiscono su un sistema e tutti gli elementi che costituiscono un sistema io posso prevedere il futuro e questa idea del determinismo è un'idea diciamo naif della realtà che è quella che ci fa credere che sia il passato che crea il presente invece con il principio di indeterminazione Heisenberg ha proprio disintegrato il determinismo quindi la realtà non funziona per causa e effetti ma la realtà emerge da un possibilismo per quello che Einstein diceva Dio non gioca a dadi cioè la realtà lui voleva continuare a difendere l'idea di una realtà causale che le cose sono causate che ci sono cause che generano effetti e quindi l'idea invece di un possibilismo dove tutte le possibilità coesistono in stati sovrapposti e noi andando verso questo possibilismo facciamo collassare le funzioni d'onda e facciamo attualizzare quella che noi chiamiamo realtà è una visione talmente sconfinante che anche Einstein all'inizio non riusciva ad accettarla però Einstein è un genio assoluto ha fatto evolvere l'umanità anche quando ha topato e ad esempio con l'entanglement lui ha topato perché lui non ci credeva nell'entanglement però proprio per il fatto che non ci credeva lui ha messo l'attenzione su questa possibilità che per lui era follia che un elemento di realtà può comunicare con ogni altro elemento di realtà ovunque sia nello spazio e nel tempo istantaneamente senza valersi di niente oltre che di se stesso lui lo chiamava la spooky action at a distance cioè l'azione spettrale come se fosse roba di fantasmi e in realtà poi dopo è stato dimostrato che è così quindi ogni roba ogni elemento di realtà un'anima ogni presente nello spazio e nel tempo è grazie a quell'anima ogni presente nello spazio e nel tempo che può comunicare con ogni altro elemento di realtà ed è anche quell'esperienza mistica metafisica che inevitabilmente hanno vissuto tutti quelli che si danno da fare per migliorare il mondo che è quella che uno vive quando proprio riesce ad andare oltre lo spazio e il tempo relativo ed entra in questo assoluto dove tutto è in amore con tutto dove tutto interagisce con tutto e dove c'è questa intelligenza infinita che non è altro che l'effetto dell'interazione di tutte le infinite intelligenze che esistono quindi è quella la cosa bellissima io sono è come se ogni individuo è una goccia di un oceano oppure tu sai che il nostro cervello è fatto di neuroni sono 100 miliardi di neuroni ogni neurono è un individuo a sé con la sua piccola intelligenza però messo insieme ad altri 100 miliardi di neuroni ti permettono di essere a te essere umano capace di fare quello che puoi fare di capacità straordinaria quindi la cosa bellissima della natura è che spesso il risultato è superiore alla somma delle parti quindi tu prendi 10 stupidi li metti insieme e fanno un'intelligenza superiore all'intelligenza di ognuno di loro che ho messo insieme no guarda che questa cosa qua non sto scherzando questa si chiama la saggezza no mi piace come lo dici è stata tenuta nascosta da tutti i sistemi di potere perché tutti i sistemi politici economici di potere partono dall'idea che la massa è stupida che la massa possa fare solo casini ma anche Nietzsche cioè tutti i grandi filosofi hanno toppato in questo perché poi invece si scopre che sono dei fenomeni dove tu metti insieme 10 stupidi li fai prendere una decisione a 10 stupidi e quella decisione è infinitamente più intelligente di quella che avrebbe potuto prendere la persona più intelligente riguardo quell'argomento lì quindi sono cose che esistono fenomeni che esistono che ovviamente l'individuo medio non conosce perché l'individuo medio deve continuare a credere di essere uno stupido e poi è molto impegnato con la sua tristezza a gestire la tristezza ti toglie un sacco di energie essere tristi non è facile essere tristi un minuto di silenzio per loro senti penultima domanda Giordano Bruno basterebbe dirti Giordano Bruno la cosa che io ho amato di più di Giordano Bruno ti prego voglio in te un alleato in questo il fatto che lui fosse un mago lui adorava la magia e oggi la parola magia non la puoi più usare io ho insegnato tanti anni quando dicevo ai ragazzi al liceo siate maghi loro mi guardavano ma prof ma crede a Harry Potter sì siate maghi di voi stessi cocreatevi inventate e lì c'era il vuoto assoluto perché questi secoli e secoli di ingabbiamento non creavano più la meraviglia di inventare di immaginare non immaginavano più io dicevo ragazzi scrivetemi una cosa che volete un vostro sogno non sapevano cosa scrivere è terrificante questo però un tuo commento a Giordano Bruno un tuo pensiero Giordano Bruno e la magia Giordano Bruno è stato il mio iniziatore iniziatore alla metafisica io sono passato da una passione per la fisica quantistica di cui non avevo capito niente però ero attratto così non lo so perché quando grazie a Giordano Bruno è stato proprio un amore assoluto che ho vissuto da quando ho iniziato a leggere le prime cose sue quindi grazie a lui io mi sono proprio iniziato a questa mia grande passione che mi guardo bene da usare quella parola lì anch'io proprio perché so che quella parola lì è stata completamente sputtanata da secoli di pregiudizi limitanti quindi la parola magia non si può utilizzare proprio perché evoca normalmente cose completamente diverse da quello che è il suo significato reale quindi io per me quando ho scoperto che faccio l'inventore ho scoperto che la massima ambizione dello scienziato rinascimentale era diventare mago per me questa cosa mi ha sconvolto perché anch'io non avevo la più pallida idea di che cosa fosse la magia o che cosa si intendesse per magia poi in realtà poi se uno c'ha voglia e ovviamente lì è un labirinto di contraddizioni cioè io non conosco persone che potrebbero affrontare l'argomento con la stessa curiosità e passione con cui l'ho affrontato io per poter riuscire ad arrivare poi alle conclusioni alle scoperte che poi sono riuscito a fare io riguardo queste cose però bisogna come dicevamo prima se tu sei felice in un mondo di infelici devi imparare a tenere il profilo basso se tu arrivi a una consapevolezza della realtà che comprende la magia e quindi la magia non è altro che la capacità di amare dell'individuo che si estende alla natura quindi quando è che un uomo diventa mago quando è che una donna diventa maga quando riesci ad essere in amore pieno con ciò a cui dà la sua a cui dà la sua attenzione quando riesce a raggiungere la padronanza della vita immaginativa e come si fa a raggiungere la padronanza della propria vita immaginativa bisogna aver vinto tutte le paure che normalmente uno permette che vivano nella sua testa quindi è un'iniziazione quella la magia un'iniziazione naturale che vive chiunque ambisce alla felicità e ambisce a raggiungere la felicità attraverso la sua capacità di amare quindi quando una persona smette di limitarsi in questo e l'amare io lo intendo come lo intendeva Dante come lo intendeva Giordano Bruno ma Giordano Bruno quando dice l'unica forza unisce infiniti mondi e li rende vivi e parlava di amore ma che amore che amore è quello lì ovviamente non è l'amore di quando uno dice ti amo a un altro mentre gli sta dando tutte le responsabilità della sua felicità è un amore che vuol dire essere entrato in connessione in risonanza in empatia con l'universo che ti circonda allora quando tu sei in amore in risonanza in empatia allora capisci l'importanza del volere dei tuoi intenti gli intenti è quello che tu vuoi e ogni volta che tu vuoi qualcosa tu generi delle forze che entrano nel possibilismo e creano coincidenze eventi e quindi il mago era la maga erano persone capaci di amare in modo sovrumano amare in modo sovrumano capaci di generare intenti che ovviamente anche lì no cioè quando si si accede all'universo cui fa accedere quella parola lì magia subito gli ignoranti pensano o a harry potter o al mago telma o al mago sylvan o alla magia nera che viene viene praticata ancora da persone molto poco evolute no cioè l'individuo medio quando pensa alla magia pensa a questi individui che ci sono nei paesi a cui le persone vanno per far del male a qualcuno no usando anche lì la fisica quantistica perché l'entanglement sostanzialmente cioè la fisica quantistica dimostra tutti i postulati fondamentali della magia rinascimentale però ovviamente è un tabù è una cosa di cui non si può parlare questa è un tabù sì no allora partendo dal presupposto che ogni volta che tu dici una cosa io dico una cosa e per me quella cosa ha un significato però ognuno quelle cose che tu dici gli attribuisce dei significati in base a quello che ognuno ha nella sua testa siccome l'individuo medio le robe che ha nella testa sono tutte le cose che si è sentito in televisione perché non dimentichiamolo perché Camilleri diceva che il 50% degli italiani sono degli analfabeti funzionali ma c'è chi ha fatto degli studi siamo all'80% l'analfabeto funzionale vuol dire che uno può essere anche laureato può anche lavorare essere in politica essere a qualunque livello di dirigenziale però vuol dire che nella sua testa c'è solo cose relative alle caccazzate che si sentono in televisione sui giornali quindi mai è stato così evidente quanto sia tutto falso lì quindi se uno non ha altre informazioni oltre quelle che gli arrivano dalla televisione e tu o parli come parlano in televisione o l'altro non ti capisce e quindi io ho una regola che piuttosto che essere frainteso preferisco tacere no e quindi e quindi è così ci siamo capiti ci sono delle parole non le si deve usare proprio perché sai comunque che verresti frainteso e a meno che tu abbia voglia di stare a fare a spiegare tutto di che cosa è per te il significato di quella parola lì però in generale secondo me è meglio è meglio stare lì insomma sul ho capito ho capito l'ultima domanda tu hai parlato di questo amore sconfinato di questa beatitudine come se fosse una vibrazione una frequenza su cui noi ci dobbiamo agganciare permettimi il mio modo un po' ex brutto di parlare ma penso che tu abbia capito essendo io donna e mamma mi viene in mente nel momento in cui cantavo la ninnana nei miei figli in cui guardo i miei figli questo amore così disinteressato e più puro e più bello quindi la mia domanda è secondo te le donne hanno una capacità più facile proprio per la loro natura di agganciarci a questo amore infinito allora le donne sono per natura maghe nel senso che noi abbiamo due emisferi cerebrali è stato scoperto che anche funzionano in modo diverso questi due cervelli quindi c'è quello razionale maschile del metodo scientifico moderno dei numeri che è un affettivo cinico che è quello che ti può far vivere nella disperazione o al massimo alla serenità quindi chi ha il cervello razionale attivo soltanto sono proprio quelli che ti augurano sereno natale poi c'è l'altro emisfero cerebrale che è quello femminile è quello spirituale è quello che elabora le informazioni in parallelo è quello dell'arte della musica è quello lì invece quell'emisfero cerebrale lì ha proprio la serenità come base di partenza per poi arrivare alla beatitudine la beatitudine ovviamente è l'esperienza clou a cui un individuo vivo possa arrivare perché vivo perché specifico vivo perché quella lì sarà l'esperienza clou che noi vivremo quando moriremo quindi quando moriremo e torneremo ad essere anima entreremo in questo stato di beatitudine che è lo stato che caratterizza l'anima è lo stato normale che caratterizza l'anima però noi come esseri umani vivi abbiamo questa diciamo grande opera da poter realizzare che è quella di riuscire a vivere la beatitudine da vivi senza aspettare di essere morti quindi ci sono mille modi mille tecniche allora come femmine una donna in quanto donna diciamo che ha la fisiologia dalla sua parte nel senso che per una donna entrare in beatitudine proprio perché l'emisfero cerebrale femminile è quello dell'arte quello della della musica quello dell'empatia è quello proprio della beatitudine però io ad esempio conosco tantissime donne che sono razionali maschili cioè hanno solo il cervello maschile razionale che funziona e in quel caso lì la donna è messa peggio del maschio cioè un maschio che usa solo il cervello maschile razionale bene o male se la può cavare nella vita ma una donna che invece di usarli tutti e due come dovremmo fare noi tutti e due gli emisferi cerebrali ne usa ne usa solo uno se la donna usa solo quello femminile spirituale beh allora lì è una maga una sacerdotessa una guaritrice è una che vive in amore e vive nell'intuizione nell'empatia ovviamente non può andare in giro per strada in Italia che meraviglia in qualche posto dove vive in relazione con la natura come gli sciamani sciamani così ma quando una donna ha solo il cervello maschile razionale attivo e l'altro ce l'ha spento gli è pericoloso gli fa ma cioè è una vita di merda cioè per lei e per tutti quelli che hanno a che fare con lei quindi approfitto di questa tua domanda anche perché non solo i miei libri ma soprattutto i corsi che io tengo adesso ce n'è uno a Tenerife ne sto facendo diversi a Tenerife proprio per andare via da questo mood italiano che è quello del dividi impera tutti contro tutti quindi si va via si va su un'isola volcanica con l'oceano con le energie primordiali più potenti proprio per vivere esperienze di allineamento dei due emisferi cerebrali che è quello stato che poi ti favorisce la connessione diretta con la tua anima e quella non è solo esperienza illuminante non è solo esperienza iperpotenziante ma è proprio un'esperienza di beatitudine cioè quando tu entri in connessione diretta con la tua anima non puoi che essere travolta da una gioia incontenibile ovviamente c'è sempre la mente razionale che poi fa da filtro e ferma perché il razionale la razionalità la gioia non la sopportano e quindi è sempre una questione di trovare l'equilibrio e vivere quello che puoi vivere in base a quello che il tuo cervello ti permette cioè in base a quello che tu ti permetti di poter vivere no quindi e quello è sai che abbiamo tutti una soglia individuale di massima sopportazione di felicità si può morire per la felicità ovvio si può morire di felicità certo però per quella che la mia esperienza non c'è limite alla felicità che uno può sopportare quindi non c'è limite al dolore sì perché il dolore arrivi a un certo punto in cui non lo sopporti e puoi svenire però la felicità non ha limiti ovviamente se i limiti ce li hai tu e ti arriva addosso tutta la felicità dell'universo muori però se tu sai come gestirla ti lascia attraversare e diventa bellissimo quindi mi piace tantissimo a me sia condividere la teoria e l'ho fatto per anni con i libri i corsi i miei erano quasi soprattutto teorici e adesso invece in questi ultimi anni prediligo più la pratica cioè mi piace proprio fare la pratica quindi meditazioni potentissime cioè tecniche proprio per allineare e bilanciare gli emisferi cerebrali cioè proprio con l'obiettivo di entrare in connessione con la propria anima per diventare intuitivi per diventare empatici per diventare liberi e per diventare geniali e soprattutto per diventare felici perché allora lì sì che allora quando inizi a sapere essere felice di tuo senza sempre far dipendere la tua felicità da altri allora lì inizia a divertirti perché allora lì ti accorgi anche di quanto è bello contribuire anche alla felicità degli altri no? Fatelo dire da una aspirante sacerdotessa e creare magie l'ho detto a voce bassa ma la sacerdotessa allora guarda visto che ti piacciono queste cose qua secondo me la gerarchia è quella lì c'è la donna normale che meno male più o meno incasinata è difficilissimo anche a se stessa gestire se stessa no? si vedono noiosa via via che vanno in giro che sembrano che piangano anche quando sorridono poi c'è il primo step evolutivo che è la fatina la fatina è quella che è rappresentata proprio dalla fatina che non tocca il pavimento quindi è nella lievezza e ovunque va diffonde stelline di gioia ma non si lascia non si lascia condizionare dall'esterno quindi la fatina può andare può andare negli ospedali poi ovunque va lei diffonde stelline di gioia e questa diciamo è la prima parte evolutiva della donna fatina lievezza e fierezza però poi c'è la sacerdotessa invece la sacerdotessa impegnativa perché la sacerdotessa è direttamente connessa col sacro e quindi quando la sacerdotessa interagisce con l'individuo medio lo collega al divino e l'individuo medio collegato al divino può andare fuori di testa o può illuminarsi infatti un tempo le sacerdotesse erano accessibili solo a imperatori a generali a condottieri immaginati c'è lì il generale di un esercito che non sa cosa fare sta perdendo che ne so cioè si passa due ore con la sacerdotessa e lo sanno solo loro quello che fanno perché possono anche non far niente solo interagire fatto sta che poi quando torna l'uomo normale dopo aver interagito con la sacerdotessa c'è la visione del tutto quindi voi donne cioè quando raggiungete questo livello di consapevolezza diventate una benedizione per qualunque individuo possa avere a che fare con voi perché tu quando diventi sacerdotessa puoi illuminare un uomo anche solo abbracciandolo anche solo dandogli la mano cioè illuminare ovviamente se si vuole illuminare perché se non gliene frega niente preferisci rimanere lì nell'ignoranza tanti preferiscono star nell'ignoranza quindi ci deve sempre essere consapevolezza da parte di entrambi quindi io penso che visto che te mi hai fatto parlare di queste cose qua penso che quello che sta succedendo nel mondo adesso che è iniziato con la con questa roba che ha messo in evidenza proprio i limiti del sistema sanitario mondiale cioè noi ci siamo resi conto che la sanità a livello mondiale è un disastro questo penso che di questa cosa almeno e poi dall'altra parte la crisi fondamentale del razionalismo di questa visione maschile unicamente maschile della realtà basata solo su numeri basata solo sui soldi dove solo i soldi determinano il valore di ogni cosa e quindi siamo dentro in una in una fase di trasformazione dell'umanità di risveglio della consapevolezza che io sono assolutamente convinto farà proprio rifiorire questa cosa della magia questa consapevolezza dell'invisibile della potenzialità che c'è in ogni individuo per arrivare all'idea di un'umanità finalmente collaborativa che smette di essere competitiva ed evolve al punto che impariamo tutti a farci del bene a vicenda invece che starci a massacrare a vicenda come duemila anni di condizionamenti vorrebbero sai Fabio tu hai detto una sacrosanta verità tra le altre mille verità che hai detto in questo confronto è quello proprio di andare lì lì in quello stato di beatitudine di gioia infinita fatelo con la meditazione fatelo con una musica ma fatelo come volete ma se voi andate lì e un cretino in tv vi dice che c'è una pandemia o che c'è una guerra gli ripeto in faccia cioè non hai bisogno dell'esperto non hai bisogno di niente ma soprattutto anche le smetti di farti massacrare da delle robe inutili come la televisione cioè capisci l'importanza delle interazioni io posso stare qui faccio le mie meditazioni faccio tutte le mie tecniche simboli bevo che ne so per entrare in connessione in grazia con la mia anima essere in questo stato di gioia incondizionata poi cosa faccio accendo la televisione e permetto al primo deficiente di poter usare delle parole che sono state create apposta per creare tumulenze per creare conflitti per creare paure e sto lì a lasciarmi massacrare da degli estrani quindi è ovvio che la prima cosa che fa una persona quando comincia ad avere come intento la sua felicità e quando comincia ad accorgersi che serve evolvere serve migliorare se stessi è proprio quello di tagliare tutte le robe che all'esterno che ti vogliono solo indebolire per controllarti quindi la televisione ovviamente non si può più guardare quella di adesso non si può guardare una persona una persona che si accorge e inizia ad essere sensibile alle vibrazioni all'energia anche al sentire cioè il tuo sentire tu cosa senti cosa senti da te cosa senti da fuori quindi tutte queste cose anche a livello emotivo che il metodo scientifico moderno ha voluto neutralizzare togliere dall'uomo che sono invece le cose che danno senso alla nostra vita diventano preziose non solo come esperienze vissute ma soprattutto diventano preziose come esperienze che vanno difese difese tu diventi felice la tua felicità devi imparare a difendela non puoi darla in pasto ai devastati che si nutrono invece di paura e quindi e quindi c'è tanto da fare ma ma la cosa bellissima è che comunque sono cose semplicissime cioè quando uno inizia un percorso di consapevolezza di conoscenza di sé poi trova solo cioè si trova l'autostrada in discesa ecco quello è proprio il senso no cioè quando uno ha voglia di uscire proprio dal buco nero dell'ovvio della normalità e e al coraggio di fare qualcosa di nuovo di diverso lì si aprono subito orizzonti infiniti bellissimi no e lì c'è solo questione un pochettino di di lasciarsi di lasciarsi trasportare però le cose cioè la vita da da razionale ma anche spirituale è infinitamente più felice della vita da razionale solo e questo io adesso mi auguro che tutti i razionali che ci sono nel mondo dopo questi due anni e mezzo devastanti devastanti abbiano iniziato a desiderare di smettere di esserlo perché se non si sono ancora suicidati cioè non si può più vivere solo con la razionalità è troppo infelice è troppo brutto e quindi e quindi bisogna attivare la spiritualità felice e qui abbiamo una quantità di maestri vastissima da cui poter attingere quindi da tutti i papà della fisica quantistica ma anche da tutti i personaggi che in qualche modo hanno contribuito a far a migliorare il mondo e sono tantissimi prometto l'ultimissima cosa perché sei troppo cioè sei qua non posso rinvitarti un'altra volta e l'ultimissima cosa tu sei per un quarto egiziano sì ho la mamma francese nonno egiziano lo so lo so papà bergamasco sì quindi però non voglio farmi i fatti tuoi voglio fare questo collegamento pazzesco cioè essendo tu un quarto egiziano per gli egizi il culto del sole della luce era fondamentale tutto gravitava intorno al sole tutto tutto i riti la vita la salute eccetera eccetera ti sei accorto che c'è una luce nuova ultimamente cioè chi non sta davanti alla tv esce va nei boschi come vado io come andrai tu chi sta nella natura chi è connesso sente queste frequenze ha visto questa luce nuova non me ne sono solo accorta io poi ho sentito la signora conforto che io adoro che anche tu adori Giuliana che ha detto che nei cieli qualcosa sta cambiando ma così rapidamente che noi abbiamo letteralmente una luce nuova adesso per quanto ti è possibile dedicarmi ancora del tempo la luce guarda che io da due anni a questa parte ho creato un gruppo c'è proprio un gruppo di persone che ha iniziato a seguirmi in tutti i corsi che ho fatto online con cui noi stiamo proprio lavorando per creare questo risveglio di consapevolezza e per creare questo mondo più felice in cui vogliamo andare a vivere è ovvio che per me che ho amato il sole e ho amato la luce fin dall'inizio di tutte le mie ricerche quindi questo è proprio uno degli elementi fondamentali del risveglio della consapevolezza cioè accorgerci quanto è prezioso il nostro rapporto col sole e con la luce del sole dal punto di vista quantistico non è solo una questione energetica però io questa cosa mi piace raccontarla perché noi non ci rendiamo conto ma tutti gli atomi anche quelli che costituiscono il nostro corpo sono stati prodotti all'interno di stelle cioè nelle stelle come il sole cos'è che succede? ci sono degli atomi semplici elementi di realtà semplici che si uniscono per generare atomi più complessi elementi di realtà più complessi la cosa incredibile è che rispetto al nostro modello razionale della realtà cioè noi con la nostra ignoranza da progloditi competitivi ogni volta che vogliamo fare qualcosa dobbiamo sempre metterci dentro un sacco di energia per fare quella cosa lì quindi noi tutti siamo convinti non so quanti desideri quante ambizioni delle persone hanno che si castrano da soli dicendo ah ma mi servono i soldi ah ma mi serve questo ah mi serve questo e non iniziano neanche per quel fatto lì c'è quest'idea che se te vuoi creare qualcosa devi metterci energia sacrificio che ne so tutte le robe più assurde sofferenza brava sacrifici sofferenza tutte cazzate cioè nell'universo non esiste nessuna legge dell'universo che dice che tu per ottenere qualcosa di straordinario devi fare fatica non c'è scritto da nessuna anzi che cosa ci insegna il sole che quando tu prendi elementi semplici e li metti insieme e li unisci per creare qualcosa di più complesso c'è una liberazione di energia infinita quindi si libera energia e noi viviamo di questa energia intelligente perché è quella del sole non è solo energia dal punto di vista elettromagnetico è un'intelligenza che ci arriva è un'intelligenza evolutiva che siccome nasce da un fenomeno evolutivo spinge proprio all'evoluzione e io vado a fare questi corsi in questi posti incredibili del mondo li ho fatti un po' in tutto il mondo a cercare la luna piena ad esempio perché la luna piena dal punto di vista cosmico che cos'è è il sole che è un archetipo con tutte le virtù maschili quelle costruttive quelle belle come l'attitudine al trionfo del bene o quello dell'ego sano e felice o dell'entusiasmo della volontà del coraggio dal sole noi possiamo attingere delle virtù straordinarie ma quando c'è la luna piena è il sole che illumina la luna quindi tutta la luce che arriva dal sole viene informata informata dall'archetipo del sole viene informato dall'archetipo della luna con tutte le virtù femminile come quindi anche la gioia nell'incertezza quindi anche questa spiritualità felice questa autosufficienza emotiva che ti fa essere felice indipendentemente dalle circostanze e quando noi facciamo queste meditazioni consapevoli con la luna piena le facciamo proprio con l'obiettivo di imparare dagli elementi della natura che hanno miliardi di anni come noi trovare la nostra il nostro equilibrio il nostro bilanciamento maschile femminile perché la luna piena è il maschile in pieno amore con il femminile quindi è proprio la maestra di questo però noi sostanzialmente quello che ci serve imparare a fare adesso come individui e come umanità dopo duemila anni di condizionamenti ad essere tutti contro tutti dividi e impera sono duemila anni che ci sono cento stronzi cento individui che vogliono poter controllare e sottomettere a loro miliardi di persone qual è la strategia che da duemila anni usano dividi e impera trova il modo di mettere le persone le une contro le altre e qualsiasi imbecille potrà governarle perché tanto nessuno si preoccuperà più di chi le governa ma si preoccuperanno tutti solo del loro nemico immaginario quindi noi qual è adesso la sfida che siamo chiamati ad affrontare come individui quello dell'imparare ad unirci ad unirci in comunione di intenti quindi generare degli intenti del mondo più felice che vogliamo smetterla di dare attenzione alle cose che non ci piacciono che non vogliamo che ci spaventano proprio cancellarle dal nostro universo e dare attenzione agli intenti ai desideri più felici ma imparando ad entrare in comunione tra di noi cosa vuol dire entrare in comunione tra di noi cioè imparando a volerci bene cioè io faccio sempre quell'esempio lì quando facevo le gare di nuoto cioè in tutti gli sport ad alto livello io penso che succede questa cosa qua strana io facevo le mie gare individuali e andavo quello che andavo poi quando facevo le staffette andavo più forte tutti che in staffetta si va più forte e come mai in staffetta si va più forte cos'è che cambia sai cosa cambia che quando fai la gara da solo sei da solo certo ci sono i tuoi amici che sono contenti se fai il record mondiale ma non è che ne frega più di tanto anzi a volte sono anche invidiosi invece quando sei staffetta sono lì tutti che pregano perché tu vada fortissimo perché più volte fai tu più forte cioè se tutti e quattro andiamo facciamo un record individuale facciamo un record mondiale in quattro quindi tutti tifano per tutti perché tutti hanno un beneficio dal beneficio di ognuno ed è questo che noi dobbiamo imparare a fare cioè diventare tutte persone che si vogliono bene cioè volersi bene vuol dire fare il tifo per i successi e la felicità di ogni altra persona con cui tu puoi avere a che fare è questo che noi siamo chiamati ad attivare adesso secondo me questa capacità di entrare in comunione di intenti ma soprattutto di uscire da quei modelli devastanti Caino, Abele, Giuda che hanno hanno caratterizzato l'individuo medio per duemila anni uscire da quei modelli assurdi lì conflittuali ed entrare in una visione invece di fratellanza cosmica vera dove ci si vuole bene come specie umana dove si riconosce il fatto che siamo tutti connessi e così come per duemila anni siamo stati tutti educati a farci del male l'uno con l'altro e adesso imparare invece a farci del bene l'uno con l'altro a curarci a guarirci a migliorarci a potenziarci e quindi queste cose che teoricamente sono bellissime a me piace farle vivere direttamente quindi faccio questa proposta per creare queste situazioni dove impariamo dalla natura a potenziarci e impariamo dalla nostra natura a volerci bene tra di noi perché questo è il futuro dell'umanità questo è quello in cui credo io poi ovviamente qualche sbattimentino ci vuole adesso qui tutti questa crisi della guerra in Ucraina la guerra in Ucraina dal punto di vista metafisico per me è proprio la rappresentazione dell'Arcangelo Michele l'Arcangelo Michele non è che arriva a Cicci dai fai il bravo non arriva taglia la testa taglia la testa al demone cioè ti ho dato tutte le possibilità della storia per poterti redimere continui a farlo stronzo ti elimino è chiaro che lo mette sotto al piede lo annichilisce non lo uccide lo ammette sotto al piede però anche queste cose sono cose delicatissime da dire perché quando c'è un 80% della gente che sta davanti alla televisione a farsi mettere dentro informazioni e non lo sa che ognuno la realtà la percepisce la interpreta in base alle informazioni che ha nella sua testa e quindi si lasciano tutti condizionare nel credere delle cose o nel vedere delle cose quando in realtà le cose sono completamente diverse da come sembrano ma perché perché ci si lascia mettere dentro informazioni dai stranei che non hanno niente a che vedere con la gentilezza con la bontà con la felicità e con la con l'individualità Fabio ognuno di noi è un individuo che ha un dono bisogna coltivare quel dono lì non essere conformisti sai che quando c'è stato il nazismo i primi che hanno aderito a quella porcheria lì erano i professori universitari direttori delle poste per essere conformisti per essere conformisti però mi ricordo che c'è stato un 10% che non ha firmato il partito 10% dei professori universitari si è rifiutato di firmare per il partito quindi i percentuali più o meno sono sempre quelle lì però noi non dimentichiamoci Churchill come ci ha definito a noi italiani sai che c'era quella roba lì strano popolo gli italiani un giorno ci sono 44 milioni di fascisti il giorno dopo 44 milioni di partigiani cioè sembra che l'italiano sia specializzato nell'andare dove sembra che il vento soffi più forte quindi lo sappiamo che è così e quindi adesso portiamo pazienza e contiamo sul fatto che il tempo permetterà sai la verità può essere frenata però richiede un sacco di energia a frenare la verità sono come delle bolle d'aria che comunque vengono in superficie prima o poi io penso sta venendo fuori tutto sì penso che questo risveglio sia velocissimo adesso ci stiamo contagiando attraverso l'entanglemente la sindrome della centesima scimia lo sai meglio di me adesso iniziano a uscire tutti ci stiamo svegliando ecco perché il serpente ha fretta e sta facendo delle minchiate plateali perché non riesce più a tenerci vabbè beh sì dai Fabio ci sono delle cose che sono si è sempre saputo cioè che l'amore è anche su tutto e che il male perde il problema che al male gli piace fare più danni possibile e quindi prima di perdere sta facendo più danni possibile comunque è spacciato e quindi è chiaro che più la consapevolezza si risveglia e prima questo processo conflittuale finisce e quindi siamo qua tutti a spingere per il risveglio della consapevolezza accelerato che dopo tutto sto tempo che è passato insomma tutti gli illuminati della storia dell'umanità hanno ambito ad arrivare a questo momento qui il momento in cui si finisce un'era e ne inizia un'altra ovviamente c'è un po' di sbattimenti da superare in quella fase lì di transizione però il futuro è inevitabilmente infinitamente più felice del passato che ci ha preceduto sto momento qua almeno bravo io sono convinto di questo ma perché ci stiamo lavorando da due anni con qualche centinaia di pazzo che mi segue e so che stiamo creando degli intenti molto potenti e quindi anche indipendentemente da quello che fa il resto dell'umanità da quello che possono essere congiunzioni astronomiche favorevoli quando un gruppo di persone riesce a essere davvero in comunione di intenti su un intento di più felicità dell'umanità possono solo succedere cose belle e quindi io sono super ottimista per questo in questo ok anche io tu stai aiutando il mondo a fare queste cose e ti ringraziamo proprio con quella parola grazie che ci hai insegnato nei tuoi libri nei tuoi corsi che è una una parola magica fammelo dire fammelo dire che per me dire grazie è magia ma permettimelo Fabio dopo tutti i grazi che ho detto attraverso di te dove troviamo la possibilità di iscriverci ai tuoi corsi allora io ho questa fatto questa piattaforma proprio durante quando è iniziata la pandemia io prima gestivo tutto dal mio sito www.fabiomarchesi.com adesso invece ho creato questa piattaforma che si chiama entusiasmologia.com che non è solo una piattaforma dove io metto tutti i corsi che organizzo sia i corsi online sia i corsi dal vivo ma è anche proprio una community è un social network felice indipendente da tutti gli altri sistemi tipo facebook instagram che sono tutti ovviamente controllati spiati censurati e sappiamo pilotati e quindi sono felicissimo perché siamo già più di 800 persone lì dentro una community ognuno c'è il suo profilo e si può condividere cose felici tutto quello che uno scopre o comunque vuole condividere con altri che ha a che fare con l'intento di migliorare di farci del bene a noi facendo del bene al mondo e l'umanità quello è il luogo insomma che ho creato quindi per chi vuole sapere quello che faccio quello che organizzo il modo più semplice è andare lì a registrarsi iscriversi alla mia newsletter ovviamente io comunque mando sempre mando sempre avvisi tutte le cose che faccio adesso ho un programma diversi appuntamenti bellissimi anche perché proprio nell'ottica di dare un contributo a creare il mondo più felice in cui vogliamo andare a vivere cioè non basta dire io voglio vivere in un mondo più felice cioè creiamolo quindi pensiamo che cosa vogliamo che ci sia nel mondo più felice cioè quale medicina vogliamo che ci sia nel mondo più felice quale educazione vogliamo che ci sia nel mondo più felice quale rapporto col cibo vogliamo che ci sia nel mondo più felice quindi io sto organizzando questi incontri magistrali ho chiamato incontri magistrali con esperti che coinvolgo proprio nel condividere quella che è la loro visione proprio per mettere i semi di questa consapevolezza più felice che voglio che poi che vogliamo fiorisca poi nel in questo in questa nuova era che in cui stiamo entrando quindi ciò ho avuto incontri che dove si è parlato di medicina funzionale c'è ovviamente un rapporto completamente diverso con la salute rispetto a quel ci sono incontri adesso c'è uno con la dottoressa luciana baroni che la numero uno in italia la massima autorità sull'alimentazione basata su vegetali no che anche quello lì è il futuro sia per la salute c'è uno che ci tiene alla salute per forza deve migliorare l'alimentazione ma anche per rendere il pianeta più felice smettendo di 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 permettere di di allevare in modo brutale in questi allevamenti intensivi queste povere veste no quindi entriamo in una visione più grande no c'è c'è la montessori che ha definito un metodo educativo bellissimo basato proprio sulla collaborazione non competitiva dei bambini esiste questa consapevolezza straordinaria è che viene applicata solo in rarissime scuole qua e la ogni tanto che poi vengono fuori questi bambini da queste scuole dove sono tutti hanno tutti imparati a esprimere il meglio di sé in modo non competitivo collaborativo però poi dopo devono andare a fare i licei le università nel secondo modello competitivo sottomissione all'autorità classico e li e li fanno fatica no però anche riguardo l'educazione stiamo proprio creando un modello educativo che possa essere esteso a a tutta a tutta l'adolescenza fino all'università in modo che uno possa entrare in questo ovviamente finché abbiamo un mondo dove c'è una le nazioni unite i governi tu sono tutti a tutto è basato sul modello competitivo vita mia morte tua e lì serve una rivoluzione che è quello che sta succedendo adesso dalla base no quindi all'inizio mi dicevi abbiamo parlato di felicità prima la felicità forse era un optional adesso la felicità è una necessità e quindi soprattutto per i giovani che non possono sopportare di vivere in un mondo infame come quello che abbiamo permesso che 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 si sviluppasse che premono per un modello diverso di realtà basato proprio sui principi fondamentali della fisica quantistica della del metodo montessori e della visione di tutti gli illuminati che hanno caratterizzato questo mondo l'evoluzione di questo mondo quindi con collaborare diventare amici e iniziare a farci del bene l'uno con l'altro e uscire da questo iper criticismo reciproco questo tutti contro tutti tutti soli contro tutti che che è devastante e devastante per tutti e per primo per l'infelicità ma soprattutto guarda che mondo qua c'è basta guarda qua come san messi siamo al giro di boa fabio ci sarà un nuovo paradigma vedrai le persone anche anche i pessimisti tristi hanno capito che non si può più tornare come prima è giro nuovo paradigma nuovo via si si pulisce le pulizie di pasqua bene fabio ti ho rubato tantissimo ringrazio di cuore è un piacere per me poter condividere queste cose sono gioia quindi figurati anzi scusa se ci ho messo tanto ma ma questo permesso abbiamo tanti progetti stanno sviluppando in parallelo e quindi cerco di fare tutto quello che posso per proprio per per coerenza no anche con quest'idea del mondo più felice in cui vogliamo andare grazie fabio grazie di cuore grazie a te allora a prestissimo tanta gioia grazie grazie tanta gioia fabio grazie grazie ciao ciao ciao